Cari telespettatori, ben ritrovati con il consueto appuntamento di fine settimana con l'esame dei problemi che sono emersi, sono venuti alla ribalta in questi sette giorni. Il primo dato è che, mi pare di commentare doverosamente, è quello che sta accadendo nel nostro paese. Noi siamo un paese sospeso, tra la voglia del cambiamento che pure c'è stata, si registra, alcuni vogliono, quasi tutti vogliono, e la incapacità di rispondere a questo cambiamento con i fatti concreti. La nostra guerra, la guerra del Movimento 5 Stelle di Salvini contro l'Europa, a me pare una grande iattura, una cosa insostenibile. Facciamo parte di un contesto sovranazionale che dovremmo tutti difendere, certo con grande dignità, puntando i piedi a terra come si fa, ma certamente non in modo rissoso, arrogante come sta avvenendo. Quali sono i risultati di questo atteggiamento incomprensibile, devo dire? Da una parte c'è l'economia che crolla, le agenzie di rating, Moody e le altre, ci dicono che, insomma, stiamo correndo un grave pericolo. Niente meno il governatore della Banca Europea, Draghi, persona di grande stima, peraltro con radici irpine, della famiglia irpina, avverte che potremmo correre il rischio che è avvenuto in Grecia, e quindi una sorta di default che penalizzerebbe tutti. Dall'altro il tentativo di trovare una linea di mediazione che è necessaria, è opportuna, è doverosa, io credo, ma 5 Stelle, lo stesso Conte, che sembra più cedevole rispetto a Salvini e a Di Maio, dice che questa manovra non si tocca, non si può andare allo scontro in questo modo, perché poi alla fine chi paga? Sono i cittadini italiani, è l'Italia che paga e che entra in un tunnel senza uscita. Speriamo che il buon senso torni, che ci sia la capacità di ragionare intorno a questa volontà di cambiamento che deve trovare le opportunità per poter cambiare. Che significa cambiare quando poi non ci sono le risorse per cambiare, che significa cambiare quando poi non si ha l'idea precisa di come deve avvenire questo cambiamento? Ecco, in questo senso a me pare che il Paese sia sospeso tra la voglia di cambiamento, di innovazione e la incapacità, la impossibilità talvolta di fare questo passo. Fermo restando che le logiche che muovono il comportamento di Salvini e Di Maio sono logiche che vanno verso il cambiamento, ma risentono anche di una superficialità impressionante. Questa è stata la settimana per la verità in cui il fenomeno droga, il problema della droga, che interessa tantissime famiglie, è esploso in modo drammatico. Quella ragazza sedicenne, Desiree, a Roma, nel quartiere San Lorenzo, violentata, stuprata da cinque stranieri, è il simbolo di una tragedia umana che sta coinvolgendo fortemente il nostro Paese. Purtroppo di questo si parla solamente quando c'è un grande fatto di cronaca come quello che è avvenuto in questi giorni che ha visto al centro della vicenda questa povera ragazza in cui famiglia in qualche modo era sbandata, lo stesso padre era trafficante di droga. Insomma, la modalità con cui si è svolto questo stupro, questa violenza animalesca, terribile, insomma ci lascia un po' pensare e devo dire che sull'onda di questa vicenda, che è abbastanza preoccupante, terribile, si sono aperti gli spazi della discussione, il dibattito sull'invasione della droga, il dibattito su come è possibile e come è facile oggi trovare stupefacenti sul mercato, quanti sono gli spaziatori, i pusher, insomma è un punto che è stato, dobbiamo dirlo con grande serietà, dimenticato, è stato dimenticato perché sostanzialmente non si è più discusso, sì, io ricordo la prima notizia di cronaca sulla droga tanti anni fa, titoli a sette colonne sui giornali, allora nove colonne sui giornali, grandi interventi di psicologi, di addetti ai lavori, richiamo della chiesa, della famiglia, delle agenzie, delle sociali che devono in qualche modo, della famiglia che devono in qualche modo tutelare questi minori, un po' allo sbando, evidentemente tutto questo è cambiato, se è vero come è vero che oggi le notizie di cronaca che riguardano gli spacciatori sono a una colonna, nascosta nei giornali, a meno che non ci sia un caso come quello di Desiree, che veramente per la brutalità con cui si è consumato, per la violenza che ci ha consegnato, ha trovato grandi spazi e trova grandi spazi nei giornali, ma questo è un punto non da trascurare, le agenzie sociali, le famiglie, la chiesa, la società, le associazioni devono fare corpo unico di fronte a questa invasione della droga, peraltro denunciata anche in Irpinia dal procuratore della Repubblica Rosario Cantelmo, in più occasioni, stiamo attenti, stiamo attenti che la droga sta entrando anche in Irpinia, bisogna aprire gli occhi, bisogna fare vigilanza, ma bisogna convincere e trovare anche soluzioni che siano alternative a quella solitudine che formano il gruppo, il branco, dentro il quale si consumano delitti incredibili. Basterebbe lavorare tutti per il bene comune, basterebbe che tutti ci attrezzassimo a capire che questi giovani sono il futuro della società del domani e se la società del domani è così infetta perché questa piaga maledetta e invasiva, allora c'è poco da sperare e c'è veramente da preoccuparsi molto. E' stata la settimana in cui la Camorra ha avuto ancora una volta, se e quando sarà accertato, naturalmente, un ruolo predominante nel malaffare. Guardate, quello che sta accadendo in Campania con i rifiuti è davvero incredibile, è davvero un punto di attacco alla società, al bene comune, come non mai. Si bruciano i depositi di stoccaggio dei rifiuti e qualcuno parla di… ma è un incidente. Un incidente più un incidente più un incidente fanno una strategia. La strategia è quella dell'attacco alla politica dei rifiuti, che ha consentito fino ad oggi alla Camorra di andare avanti e di assorbire risorse infinite, di gestire il mercato, non vi meravigliate, il termine è questo, dei rifiuti. Perché i rifiuti producono tanti soldi, perché si insinano nei rivoli più impensabili, perché danno vita a quel riciclaggio, danno vita soprattutto a quella organizzazione criminale che si chiama Camorra, di fronte alla quale non bisogna mai abbassare la guardia, perché essa si infiltra dappertutto, minaccia e si infiltra, e si infiltra soprattutto in quella pubblica amministrazione, tra quei colletti bianchi che un po' per paura, un po' per connivenza, lasciano campo libero a chi vuole delinquere. E' stata la settimana, e qui mi consentite un tono un po' diverso, lo devo dire, di usare nei confronti della nostra provincia di Irpinia, un termine che purtroppo sono stato costretto ad usare molto spesso, perché non c'è un termine alternativo, non c'è una speranza che possa essere condivisa in modo diverso se non attraverso questo termine, il termine lo scippo. Siamo la realtà dello scippo, siamo diventati cosa nella quale ciascuno intende fare le cose che vuole, questo è per la mancanza di una classe dirigente, e quei burattini che sono sulla scena politica oggi ne sono testimonianza, sono addirittura i protagonisti dello scippo che avviene senza contrasti. Ricordate la grande battaglia portata avanti, io oramai da anni parlo dello scippo delle acque, noi siamo il paese, la provincia che ha maggiori risorse idriche, e siamo soggetti purtroppo ad avere l'acqua qualche volta in qualche comune ridotta. Paghiamo tasse sull'acqua a non finire, il debito dell'alto calore supera i 130 milioni di euro, si sta cercando una soluzione, ma l'acqua ci è stata scippata, ci è stata scippata per la incapacità di una regione, quella campana, che non ha voluto partecipare ad un tavolo della trattativa sulla spartizione delle risorse idriche. Erano tutti presenti, fino anche alla Basilicata, a una quota dell'acquedotto pugliese, che gestisce a modo suo e con arroganza senza fine la risorsa nostra, il caposele, gestendo addirittura con doppia galleria per chi l'acqua è abbondante. Ce l'hanno scippata, ce l'hanno scippata, e le battaglie fatte sono state inutili. Se è vero come è vero, che nella stesso caposele questa convinzione, questa necessità di lotta non c'è, passivamente, forse per compromessi locali, viene gestita questa situazione delle risorse idriche. Ci hanno scippato i tribunali, Sant'Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino, sono stati chiusi, aggravando, senza un'alternativa possibile momentanea, le situazioni del tribunale di Avellino e quello di Benevento. e nessuno, fatta nara eccezione, ricordo qualche presa di posizione del procuratore guerriero, che allora si allertò con grandi convegni, ma anche le prese di posizione della Repole per Sant'Angelo dei Lombardi, o dei gruppi politici di Ariano, che alzarono la voce, ma niente da fare, sono stati scippati per incapacità di produrre posizioni alternative. Ed ora l'ultimo, è uno scippo che se si dovesse consumare, è una tragedia infinita. Per l'Irpinia, per il Mezzogiorno, per il Paese, è una grande questione morale. parlo della stazione Irpinia. La notizia è di qualche ora fa. Il tratto, il secondo progetto della stazione Irpinia, secondo una parlamentare di 5 Stelle, sannita, non sa da fare. Perché costerebbe tanto e perché la logica del risparmio, i 5 Stelle che fanno i moralisti, ma quando vogliono fare i moralisti, e non sono moralisti, non hanno nessuna etichetta per essere questione morale. abbiamo visto gli staff di Di Maio, le promozioni che stanno facendo, le lotte che stanno facendo per la RAI, altro che lottizzazioni, altro che prima, seconda Repubblica. Questi sono affamati di potere. Non cambia nulla, se non nella parola cambiamento che vogliono vendere come un fatto innovativo che non hanno la capacità di portare avanti. E' così questa deputata di 5 Stelle, di sannita, dice alla stazione Irpinia si può cancellare. Perché sostanzialmente si risparmiano un po' di soldi, si risparmia un miliardo circa, se non sbaglio. E dunque i 5 Stelle di Avellino, questi che hanno avuto grande successo, perché mai si era verificato che una classe dirigente rappresentante di un partito potesse essere così nutrita in Parlamento. Fino ad ora silenzio, fatta eccezione per il generoso Maraia, che tenta di rassicurare, ma mi pare che la sua sia una presa di posizione molto cauta. di fatto, se dovesse accadere che viene cancellata la stazione Irpinia, noi combiremmo un passo indietro di cento anni. Perché sulla stazione Irpinia, a Grotta Minarda, nella Valle dell'Ufita, si è giocata tutta la speranza del futuro dell'Irpinia, del ricongiungimento di questa zona interna con il Mezzogiorno, con il canale A8, il territorio A8, l'Europeo. È una sciacura, guardate, senza fine. Le grandi battaglie fatte nel passato per rompere l'isolamento delle zone interne vengono vanificate se dovesse passare la voglia e il desiderio di questo emendamento proposto dai Cinque Stelle Sannite. E fa bene il presidente degli industriali, Pino Bruno, uomo coraggioso, senza peli sulla lingua, self-made man che porta avanti le sue attività industriali con grande coraggio senza avere bisogno di nessuno perché il suo nessuno è il lavoro quando dice che siamo tornati in Africa e che bisogna sbattere la porta e andare via da questa terra maledetta senza classe dirigente. Perché la stazione Irpinia che ci vogliono scippare siamo al termine scippare è una realtà che è costata sacrifici, volontà, mediazioni e ora si dice non bisogna spendere i soldi perché quel tratto consente un risparmio ma il risparmio è il risparmio a danno di una popolazione Irpina di una realtà che ha bisogno di sviluppo che ha puntato tutto sul collegamento della stazione Irpinia Napoli Bari e tutto il resto. ecco l'approssimazione ecco la superficialità che lo dica uno di Benevento a quattro passi da noi è di cinque stelle è di una gravità straordinaria questo significa cancellare l'impegno il lavoro la determinazione che si è avuta negli anni passati per realizzare almeno nella mente nel progetto questa stazione Irpinia e Bruno il presidente degli industriali detto da lui è veramente preoccupante di dire questo appunto significa che dicono agli Irpini battete la porta e andatevene via andate in America andate in Europa andate in Germania perché qui non c'è possibilità di sviluppo non c'è voglia di cambiare non si può cambiare indipendentemente dalle logiche politiche ma questo è il limite di una classe dirigente incapace altro che rinnovamento altro che cambiamento altro che questione morale questi mi sembra siano il peggio del peggio del peggio se accettano senza una grande mobilitazione che ci scippano la stazione Irpinia allora non c'è altra considerazione che dire questi poveretti questi incapaci questi inetti che consentono queste furberie piccole furberie ma che volete che vi dica di più ma quale speranza ma quale ma quale classe dirigente ma quale novità quale cambiamento un fatto è che il populismo guardate che sostanzialmente dare al popolo ciò che il popolo desidera ma in termini di parole non di fatti e di cambiamento perché il populismo si sta dimostrando essere una cosa davvero contro il popolo e non è che il populismo poi non appartiene neanche a persone che sono o erano strutturate nei partiti prendete il presidente della regione De Luca il quale dice sostanzialmente e lo dice a chiare lettere ci vuole anche un po' di pudore ci vuole anche la capacità di assumersi le proprie responsabilità tu sei il governatore della regione Campania e ti metti a dire che i laboratori ti ricattano perché fanno le analisi fasulle perché a proposito dei laboratori dice c'è chi moltiplica le analisi ci sono ladri c'è chi ruba e tu che gestisci la sanità caro presidente caro governatore caro per modo di dire sia chiaro la sanità in Campania che fai se questi rubano se questi moltipli quali controlli metti sul territorio che cosa fai se questi rubano lui dice questi comprano le pagine dei giornali per farsi propaganda e allora se sei consapevole che questo accade quali controlli metti sul territorio e nei laboratori per vedere che cosa accade in un bilancio che assorbe il 60% solo sulla sanità una sanità allo sfascio lo dicono lo hanno detto i sindacati l'altro giorno in un incontro la sanità in Campania è uno sfascio è presidio di clientele è nomine di primari e tutto questo si consuma sulla pelle dei cittadini perché a parlare è bene e che ci vuole ecco il populismo anche organizzato e strutturato dei partiti anzi il populismo è nato proprio da questi populisti travestiti che stando in un partito hanno fatto le cose più immonde che si potessero pensare questo vale per tanti settori per i rifiuti che bruciano per i forestali che si dice vengono pagati poi non vengono pagati per una sanità che è dissestata il caso nostro in provincia di Avellino è emblematico tu crei dopo tanti anni e tanti sacrifici una città ospedaliera che deve essere un fiore all'occhiello una eccellenza si disse universitaria collegata alla Federico II che deve rappresentare un punto di qualità della sanità per l'intero mezzogiorno e tu che fai firmi un decreto per cui la città ospedaliera da punto di eccellenza da tutte queste parole c'è si depotenzia e trasferisce dei reparti nell'ospedale di Solofra che non ha caratteristiche anticismiche ci vogliono un sacco di soldi per ristrutturare ci vuole personale a non finire e tu fai questo depotenziando ciò che doveva essere dovrebbe essere forse eccellenza per una manovra che dietro evidentemente è anche politica perché se non si capisce questa scelta folle a Solofra si poteva fare un centro di alta specializzazione contro i tumori visto che la Solofrana visto che il Crom di Mercogliano sollecita con i suoi dati un'attività tumorale per la Solofrana notevole allora fai un centro di ricerca di eccellenza non depotenziare la città ospedaliera che doveva essere un COL e così tu la rendi povera trasferendo dei reparti e forse probabilmente c'è da nominare altri primari c'è da spendere un po' di soldi così non funziona se non si affronta anche nella sanità una grande questione morale tutto non funziona non va bene è inutile che si la prende con la stampa con l'informazione con quella che è capace di dire la verità che ha la schiena dritta lui è abituato invece evidentemente a parlare per le televisioni amiche a fare discorsi i monologhi da solo perché e a dire che sono i fatti che contano veniamo ad Avellino alla nostra città che un tempo era una città e oggi non lo è più altro che paese sospeso come ho detto all'inizio questa è una città sospesa una città di malfattori dove la pulizia la questione morale dovrebbe essere il punto di riferimento dove i mascalzoni dovrebbero essere mandati a casa dove i faccendieri non dovrebbero trovare più spazio dove la legalità soprattutto nelle amministrazioni dovrebbe avere una risposta tale da tranquillizzare i cittadini non lo è vedete questa tarantella Ciampi è stato eletto sindaco e vabbè i mentori i cantori quelli che dicono abbiamo avuto il sindaco la maggior abbiamo vinto non avete vinto niente e non vincerete niente se andate avanti così perché non avete la maggioranza in consiglio comunale la democrazia è una cosa seria e va rispettata non volete fare i compromessi non volete scegliere la strada della mediazione e volete governare volete affrontare la questione era semplice non avete la maggioranza andata a casa si restituisca al popolo sovrano al cittadino la capacità di amministrare la città invece no quelli firmano la sfiducia perché insomma anche questa è una cosa irresponsabile firmare la sfiducia giustamente questo ha detto una cosa non l'ha fatta ha promesso non ha mantenuto le promesse e allora sfiduciamola ma dentro questo ci sta sempre squallore sporcizia nulla è casuale è un seguirsi di ricatti tu mi dai non mi dai è disfiducia tu mi hai promesso non lo fai io disfiducia perché non hai la maggioranza ecco come si violano le regole della democrazia ecco come si inquina la capacità di governo e vabbè hanno fatto la sfiducia avrà il suo percorso io credo che cambieranno tante cose insomma ci saranno anche dei pentiti tra coloro che hanno firmato la sfiducia io non credo che la cosa finirà così e il sindaco più che accettare questo di sfidare sul piano della capacità propositiva risponde io faccio il dissesto e sapete tra questi cristiani non lo so se sono cristiani o animali perché mi è difficile anche dare un'interpretazione a queste cose ma voglio dire tra questi animali il dissesto va a quel servizio ai cittadini di Avellino perché badate bene se c'è il dissesto aumentano le tasse se c'è il dissesto si pagherà tutto più caro e la città fallirà ancora di più e tutto questo è in questa rincorsa del male dello sfregio ma quando mai in questa città era accaduta una cosa del genere quando mai all'insegna del cambiamento si verifica il peggioramento quando mai era stato consentito che gruppi di malfattori potessero ricattare e minacciare il governo della città e quando mai il governo della città risponde facendo pagare tassativamente i cittadini debiti contratti da altri da coloro che non hanno saputo amministrare vedremo come accadrà io sono dell'avviso che i penditi tra coloro che hanno firmato la sfiducia ci saranno e forse subito dopo perché ora il 31 ottobre tra qualche giorno ci sarà l'elezione del presidente della provincia anche qui guardate la lotta si riduce alle persone a coloro che sono interessati al voto ecco nessuno e voi me ne dovete dare atto ha parlato della provincia che cos'è qual è il ruolo della provincia oggi che cosa può fare una provincia a oggi quale risposta positive può dare al territorio nessuno tutti in cerca di fare il voto per questo o per quello e per quello significa il sindaco di Solofra Vignola persona rispettabilissima come l'altro candidato il sindaco di Avella Biancardi ma del ruolo della provincia dei programmi di quella politica che noi conoscevamo essere prima contenuti e poi nomi che fine ha fatto ma andate a farvi benedire buonasera a per l'anima Grazie.